Palle, palle, palle! Evviva il serenissimo Granduca! Pietro Pina Pintorro Cosimo Maximilian Volkvang Torrini Beh, direi che hai il nome adatto per parlare del tema di oggi Parliamo di Cosimo I, De Medici, Granduca di Toscana Granduca però non subito, ci arriviamo alla fine Innanzitutto, questo è un tema che interessa la tua tesi di laurea magistrale Sì, e sostanzialmente il mio interesse per questo argomento è scaturito Da una ricerca d'archivio di un mio amico dottore in storia medievale Che all'archivio di Stato di Pistoia nel 2016 trovò delle carte In cui era menzionato un certo vestro di bollo del zingaro da Cutigliano Che veniva querelato per un caso di stupro nei confronti di nanna di Guido di Tonio E come si collega la guerra di Sena a questo evento? Il notaio scrive che nanna di Guido di Tonio menzionava un certo santaccio Santaccio da Pistoia, nelle fonti a volte menzionato anche come Santi Borri da Cutigliano Quindi non propriamente di Pistoia ma della montagna pistoiese E chi era costui? Costui era, cioè fu quello che il notaio nelle fonti descrive come quello che fece il tradimento di Chiusi Il tradimento di Chiusi, cioè la battaglia di Chiusi Ci arriviamo Ci arriviamo Ci arriviamo Beh, questo era sicuramente un dottore che fa anche qualche rievocazione, che conosciamo No, stranamente, no, non fa rievocazione Io sono quello che faccio rievocazione Esattamente, esattamente Ne abbiamo già parlato, a onor del vero Tu sei membro della commissione storica di Virtu Nascente Con il nostro Lorenzo Bellucci due anni fa In piena fase di Covid Con un ciclo di riunioni medice Che trovano nuova fama in progetti che vedremo E abbiamo parlato anche e soprattutto di suo padre Di suo padre Giovanni delle Bande Nere Giovanni delle Bande Nere Per riassumere un attimo il quadro Che muore nel 1526 E infatti lascia suo figlio Praticamente orfano di padre Figlio di lui e di Maria Salviati Di un ramo dei due della famiglia Medici Che non era necessariamente destinato Alle vestigia del trono del potere Dopo praticamente sei anni In cui lui non aveva neanche fatto da padre sostanzialmente Costantemente lontano da casa Lui viveva alla villa del Trebbio In una zona di campagna A dedicarsi sostanzialmente alla caccia Alla pesca E soprattutto a combattere in sostanza Però quasi da privato cittadino Cioè anche nel libro interessante di Young Che vorrei mostrare perché è uno dei classici Sulla storia dei Medici Con un taglio divulgativo ma molto specifico Perché racchiude praticamente quattro secoli di storia fiorentina Questo ragazzo Che assorge nel 1537 Al potere Era stato individuato Da alcuni senatori Come un uomo di paglia Un ragazzo che aveva sempre vissuto Con modestia Dissimulando Un grande Una grande capacità di uomo di stato Che avrebbe dimostrato subito Nei primi mesi della sua vita politica Dopo che aveva praticamente ingannato Questi quattro senatori Guicciardini Strozi Acciaiuoli Valori Che avevano visto in lui Una sorta di strumento Per togliere il potere effettivo A questo ragazzino E sostanzialmente lasciargli un potere formale Ricordiamo la fase Vorrei che tu mi aiutassi a ricostruire In che clima Che cosa è successo prima Siamo praticamente nelle guerre d'Italia Sì esattamente Siamo in questo contesto Molto turbolento Che vede la penisola italiana Attraversata dai francesi Che sono in guerra dal 1494 Contro gli spagnoli Contro la realtà imperiale Più in generale E la storia diciamo Dell'ascesa al potere di Cosimo I Inizia proprio durante questo periodo In particolar modo Cosimo I assorge Cioè lo possiamo individuare Nella scena politica Negli anni dell'assedio di Firenze Addirittura Quindi tra il 1529 E il 1530 Cosimo I Durante un incontro In cui si cerca di mediare In cui l'imperatore Carlo V E il re di Francia Francesco I Cercano di mediare Per porre termine A questo lungo periodo di guerra Che si stava protraendo Cosimo I Con Alessandro De Medici Che era per l'appunto Duca di Firenze Vengono inviati a Bologna Per cercare di condurre Un'ambasciata Facevano Diciamo da intermediari Ed è in questo momento Che il pontefice E anche il pontefice Che era Ricordiamolo Un membro della famiglia Medici Papa Clemente VII E Carlo V E D'Asburgo Notano La figura di Cosimo I De Medici E nonostante la sua Giovanità Ricordiamo che è nato Nel 1519 L'anno delle elezioni Di Carlo V Esattamente Due anni dopo L'esplosione Della Praticamente Protesta luterana Esattamente E nonostante la sua Giovanità Lui si distingue subito Per la sua Abilità In ambito Diplomatico Politico E Lo notiamo Ancora una volta Per l'appunto Come dicevi prima Giustamente Nel 1537 Anno in cui Il 6 gennaio Viene assassinato Alessandro De Medici Per mano di Lorenzino Soprannominato Anche Lorenzaccio Proprio per il gesto Che portò avanti Di assassinare il Duca E Da lì Ha inizio La sua Ascesa al potere Ricordiamo La battaglia di Montemurlo Del 2 agosto Ora ci arriviamo Assolutamente Ma ci arriviamo subito Semplicemente per dire Che questo ragazzo Aveva ereditato Dalla madre Maria Salviati Un atteggiamento Un po' schivo Che fra l'altro Gli storici Non sempre Danno Troppa importanza Al fattore genetico Ma io lo contestualizzerei Perché lui Aveva ereditato Il gene Mao Di suo padre Grazie a uno studio Di paleogenetica In cui Si è riusciti A capire La natura Di Giovanni Delle bande nere Siamo arrivati Tramite lo studio Pronto L'analisi Del DNA Sulle sue osse Sui suoi resti A capire Che egli ha Sviluppato Aveva sviluppato Il cosiddetto Gene Mao O dell'aggressività Che in ambienti Amorevoli Dà Sostanzialmente Questo è L'assunto Il contrario Quindi Un atteggiamento Un carattere Quello che i greci Chiamerebbero Il carattere Il carattere innato Che poi ovviamente Si conforma All'ambiente Contrario A quello Contrastivo In paradosso In opposizione Rispetto al Fattore genetico Ma che in ambienti Privi Di Amore Di confidenza Di capacità Quindi di avere a che fare Con un padre Che non c'era mai Ricordiamolo Questo lo si vede bene Se uno volesse Vedersi quel capolavoro Che è Il mestiere delle armi Con le lettere Che Il nostro Mandava A sua moglie Un padre Che non c'era mai E che Lo raccontano Benissimo Anche le testimonianze Di letteratura secondaria Sostanzialmente Per formare Al carattere Il figlio Tendeva A lanciarlo Da Altipiani Altipiani Del palazzo Per riprenderlo Al volo Se non ricordo male Dal palazzo di via del corso A Firenze Giovanni Lanciava proprio Almeno così L'aneddoto Certo Certo No 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 Non gli diamo eccessiva importanza No Non gli diamo eccessiva importanza Ma Questo fa sì Che Cosimo Dissimuli Per tutta la sua vita Fino al 1537 Di avere un grande carattere Tanto che I suoi stessi Chiamiamoli Sì Compari Piuttosto che amici Anche se Compari Una parola un po' Decontestualizzata Ma ci siamo capiti Diremmo compagni di brigata Se si potesse dire Ma Colleghi di lavoro Pur nella sua solitudine Lo disprezzavano Per questa sua Sostanzialmente Come dire Capacità di stare In secondo piano Eccetera Tanto che Per Iscritto Lui dovette Consegnare Il potere reale Del governo L'abbiamo già detto Ai senatori Che avevano abolito La signoria La signoria Che infatti Ricordiamolo C'era stata una breve Esperienza Tra il 1494 Con l'inizio Delle guerre d'Italia Carlo VIII Lo sappiamo tutti Repubblicana però Che aveva interrotto Quella signoria Di fatto Pur nel veste Di una tradizione All'ombra Della Repubblica Che già si era incrinata Alla fine del 300 Ma che sostanzialmente Vede i medici Fuori dalla scena politica Fino al 1512 Alessandro viene assassinato Lorenzino L'assassina Ma fugge Fugge a Venezia E viene nascosto A Venezia Da parte di Filippo Strozzi Che diventerà Uno dei più Acerrimi nemici Di Cosimo I E il figlio Di lui Piero Strozzi Sarà Colui che Insomma Porterà avanti La guerra Nelsenese Che è proprio Il tema Su cui Adesso andiamo a parare Mi citavi prima però Il primo appuntamento militare Che insieme ai fuoriusciti Iniziava ad alimentare Un clima Di risoluzione politica Che è appunto La battaglia di Montemurlo Sì La battaglia di Montemurlo Combattuta Nella notte Tra L'1 E il 2 agosto Più che Una battaglia vera e propria Possiamo definirla Una scaramuccia Perché Come vedremo anche Durante la guerra di Siena Proprio La natura Dei conflitti In quegli anni Si svolge in questa maniera Non ci sono Grandissime battaglie Campali O almeno Quelle che ci sono Non sono Non sono così Tante Ecco E E quindi No 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 Dicevi che non è una vera e propria battaglia Assume più Una natura La natura Di una La forma Di una Scaramuccia Tra Piccoli gruppi armati Che nella notte Si contendono Il possesso Di questa Rocca di Montemurlo Posta Posta a metà Distanza Tra Pistoia E Prato E qui Filippo Strozzi In questo scontro Viene catturato Da Alessandro Vitelli Che fino a quel momento Era Che era Il governatore Di fatto Della fortezza Di San Giovanni Più comunemente nota Ora A Firenze Come fortezza D'abbasso Esatto Lui Cattura Filippo Strozzi Lui imprigiona E così facendo Però La Come dire Il 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 duca Perché ormai Dopo la battaglia Di Montemurlo Cosimo I Ora Non diciamo Cosimo I Cosimo ancora De Medici Viene Eletto A primo Dei cittadini Almeno così Riportano le fonti Ancora Non c'è questo Nome di duca Filippo Strozzi Che viene catturato Sfugge Alla giustizia Di Cosimo I In quanto In quanto Prigioniero Di Alessandro Vitelli Di fatto Infatti Ci sono È molto interessante Vedere Come Nelle carte Ci siano Varie Trattative Portate avanti Per cercare Di Fissare A una determinata Somma Il riscatto Di Filippo Strozzi Si passa Da 50.000 Scudi Fino ad arrivare Alla fine A 25.000 Scudi Ricordiamo Che Firenze Versava In condizioni Finanziarie Pietose Ma così come Durante tutta L'esistenza Del Ducato Soprattutto Durante la guerra Di Siena Vedremo come La logistica Fu Molto Ecco Carente Su questo versante Alla fine Dopo una serie Di trattative Che durarono Per molti anni Cosimo I Riesce A interrogare O meglio Il consiglio Dei 48 Se non ricordo male Sottopone A interrogatorio Filippo Strozzi Lui Sotto Tortura Ovviamente Confessa Tutti i piani Dei fuoriusciti Fiorentini Che cercavano Di rientrare In città Dopo L'assassinio Di Alessandro De Medici Primo duca Di Firenze E Di fatto Poi lui Dopo questo interrogatorio Si suicida In In cella E Il Figlio di lui Piero Strozzi O Pietro Strozzi Dipende Come è riportato Nelle fonti Mosso Da questo Spirito Vendicativo Nei confronti Della morte Del padre Muoverà guerra Al Ducato Di Firenze Di fatto Per tutta la sua vita Certamente Sì Esattamente Ma proprio Questo carattere Molto forte Di un uomo Di stato Che Si traduce Subito Nella creazione Dell'argomento A cui ti sei dedicato E ti stai dedicando Per la tesi magistrale Di fortezze Non solo a Firenze Nell'ampliamento Della fortezza Da basso Ma un po' In tutta la Toscana Non so se ne vuoi parlare Sì certamente Allora ho qui con me Alcune carte D'archivio Che Che ho consultato Per l'appunto Per la tesi Come hai detto Giustamente Mi sono centrato Sull'analisi Di fortezze Nel dominio Fiorentino E nel Dominio Senese Che poi Diventano Tutt'uno Con La realtà Del Gran Ducato Ed è molto Interessante Notare Come Le condizioni In cui Versavano Le fortezze Del tempo E questo È grazie Proprio Alle relazioni Dei commissari Che si recavano In questi luoghi Per verificare Lo stato Delle artiglierie Lo stato Delle munizioni Delle grasce Quindi Degli approvvigionamenti Alimentari Come erano Definiti E ovviamente Delle condizioni Stesse In cui Versavano Le mura Un esempio Che ho portato Qui Riguarda Per l'appunto La fortezza Di Pistoia La fortezza Santa Barbara Che Non era A differenza Di quello Che si possa Credere Una fortezza Adibita All'offesa All'attacco Quanto Assume più Una Connotazione Difensiva Non solo Per la città Ma è rivolta Anche Verso La città È rivolta Al controllo Della città E proprio Questo sarà Uno dei motivi Queste fortezze Rivolte Verso il controllo Cittadino Che farà Per l'appunto Scoppiare La guerra di Siena Ma perché Si costruivano Queste fortezze Per controllare Le città Sostanzialmente Perché Le città Erano Focolai Di disordini Pistoia In primis Era notoria Per le sue Fazioni Di panciatichi E cancellieri Panciatichi Sostenitori Dei medici Cancellieri Loro avversari Che scorrazzavano Anche Nella montagna Pistoiese Creando Grandi disordini Quindi vediamo Come il conflitto Per l'ascesa Al potere Di Cosimo I Si estenda Su una realtà Territoriale Molto più ampia Basti pensare Che a seguito Della battaglia Di Montemurlo Nell'agosto Del 1537 La fazione Panciatica Di fatto Anienta I cancellieri Che sono Ammassati Nella chiesa Del paese Di Cutigliano Danno fuoco Alla chiesa E ovviamente Succede Il massacro Poco dopo Succede la stessa cosa Nel vicino paese Di Gavinana E quindi Il Ducato di Firenze Che cosa fa Manda Dei Commissari Per cercare Di mediare Tra le fazioni Che però Combattono Sempre Tra di loro Quindi Ecco È molto interessante Anche vederlo Sotto questo aspetto Collocato Di estensione territoriale In Toscana Perché Ricordiamolo Lui acquisisce Un potere Che in diversi mesi È contestato Di fatto E sulla Scala generale Anche dello scontro Geopolitico Tra grandi potenze Lui fa una scelta Non indifferente Cioè lui sceglie L'imperatore Lui sceglie Carlo V La fazione Imperiale E non era scontato Perché Tradizionalmente Firenze Aveva sempre O quantomeno In fasi alterne Ma In maniera consuetudinaria Tradizionale Seguito La politica Invece filo francese Come si spiega La sua scelta Della giustificazione Imperiale Che di fatto Segna la sua vita Anche dopo Il 1555 L'abdicazione Di Carlo V Con Massimiliano Ferdinando I Ancora Nella fase Nella parte Imperiale Dello scacchiere europeo Beh innanzitutto Dobbiamo sapere Allora nel 1512 Facendo un passo indietro Certo Abbiamo la Seconda cacciata Se non vado errato La seconda cacciata Dei medici Da Firenze Che con l'assedio Del 1529-30 Opera Delle truppe Imperiali Cercano Di far rientrare I medici A Firenze Cercano di far rientrare Papa Clemente VII Che era Membro della famiglia Medici Che era stato Scacciato Da Roma Dopo il sacco di Roma Del 1527 Quindi su un più ampio Scenario In questo senso E di fatto Carlo V Poi si allea Dalla parte del Ponteficio Assedia Firenze Firenze si arrende E riescono Dopo due anni Di fatto Dopo questo assedio E di fatto I medici Riescono a entrare Quindi direi Che ha inizio Da qui L'alleanza Possiamo dire Tra Cosimo Cioè Tra Firenze E la realtà Imperiale Poi ricordiamo Anche Sempre tornando Sulla questione Delle fortezze Che per quanto riguarda La fortezza da basso Vi fu stanziato Un presidio Un presidio Ispano Imperiale Non erano Le Le bande Medice Su cui poi Arriveremo Che controllavano Di fatto La fortezza Ma bensì Un presidio Di soldati Che potremmo Che di fatto erano Soldati mercenari Ispano imperiali Che controllavano La fortezza E quindi Questo consolidava Il rapporto D'alleanza Tra Cosimo E Carlo V Nonostante tutti i problemi Poi logistici Che emergeranno Nella gestione Di un presidio Ispano imperiale Per quanto riguarda Firenze Certo Assolutamente Beh io direi che Sostanzialmente Possiamo passare All'evento D'approfondimento Che riguarda Sostanzialmente La questione Più dirimente Nell'assetto Che valeva Tanto in Toscana Quanto su una scala Più vasta Appunto Potremmo dire Di equilibrio europeo Che è appunto La questione senese Dopo magari parliamo Di nuovo Del suo stile politico Della politica matrimoniale Però sostanzialmente Il cuore Della questione Ha due fasi Lascio a te la parola Su questo Perché c'è un primo accordo E vedremo in sostanza Quale sarà la soluzione A te Allora Sostanzialmente Per la costruzione Della realtà Territoriale Del Gran Ducato Cosimo I Si trova A dover Di fatto Muovere guerra Contro Siena Ma perché Ovviamente Non è che Un giorno Si sveglia La mattina E dice Oh conquistiamo Siena No ovviamente Ci sono Degli antefatti Antefatti Che si legano A una più ampia Realtà territoriale E Una di queste È per l'appunto La presenza Ancora una volta Degli spagnoli Nella città di Siena Ma come ci arriviamo A questo Ci arriviamo Con le guerre Della Lega di Cambrai Che nient'altro Cioè che Non erano altro Se non La guerra In cui Si In cui C'è per l'appunto L'assedio di Firenze Quindi va dal 1526 Al 1530 Di fatto Ricopre Quegli anni Lì E che cosa Era successo Siena Si era Alleata Con L'imperatore Carlo V In un primo Momento E Questo Aveva fatto Sì che Siena Si ritrovasse Si ritrovasse Con Una fortezza Presidiata Da Truppe Ispano-imperiali Una fortezza Ancora una volta Così come quella di Pistoia Che menzionavo precedentemente Rivolta Al controllo cittadino Però questo Ovviamente Ai senesi Non andava giù Non volevano Una potenza straniera Che di fatto Li controllasse E quindi Nel luglio Del 1552 Organizzano Un'insurrezione Armata E lì Cosimo De Medici Di fatto È costretto A intervenire Lui Non voleva Intervenire In un primo momento Però Si trova Costretto Per via Di vincoli Di parentela Lui aveva sposato Eleonora di Toledo Che era figlia Del vicere spagnolo Di Napoli Don Pedro De Toledo E E quindi E quindi Vediamo come Tutto il quadro Si collega Sì nel senso Non ti rubo la parola Ma È contestualizzata La scelta del vicere Perché sostanzialmente Pensa di risolvere In una prima In una prima fase Con le truppe Che vengono Da Napoli Ma che di fatto Non risolvono Perché Esatto Perché Le prime operazioni Di guerra Vengono portate avanti Nell'estate Se non vado errato Del 1553 In cui La guerra Assume più Il carattere Non di grossi Scontri campali Come dicevo Ma di Assedi Di piccole Scaramucce Rivolte nei confronti Dei piccoli Centri Dislocati Sul territorio Quindi Monticchiello Che viene Conquistata Dai Medicei Oppure Montalcino Che però Resiste All'assedio Poi Montalcino Lo ricorderemo Sarà L'ultimo Baluardo Della resistenza Senese Dopo L'assedio E un'altra Motivazione Ancora Oltre a quella Del presidio Ispano-imperiale A Siena Che controllava Di fatto La città Fu la conquista Della Corsica Nel 1553 E Di fatto La Corsica Era Sotto Era un Possedimento Genovese Legato Ad Andrea Doria Che era passato Dalla parte Imperiale Di Carlo V E quindi Carlo V Vedendo Che le truppe Francesi Stavano invadendo La Corsica Chiese aiuto A Cosimo I Per Per portare Aiuto Militare Per l'appunto Per la riconquista Dell'isola Perché di fatto I francesi Stavano Sostenendo Stavano inviando Truppe In Toscana Per Sostenere I senesi Che avevano Portato avanti Questa Rivolta Nei confronti Degli imperiali Poi Ci sono Le varie Motivazioni Che legano Per l'appunto La Francia Alla realtà Senese Ma Non è questo Certo Ma questo Proprio perché Una Toscana Più debole Significava Più debole Sul versante Imperiale E quindi Di nuovo La catena Geopolitica Europea Di Siena Sì Sì Assolutamente E quindi Abbiamo Una prima fase Nel 53 Di questi Scontri Però L'assedio Di Siena Si ha Tra il 54 E il 55 Siena viene Accerchiata Di fatto O almeno Si tenta Di stringere La morsa Sempre di più Facendo arrivare Numerose Truppe Mercenarie Per l'appunto Su cui poi Di cui poi Parleremo E Siena Alla fine Non riesce Più A Di fatti A sostentare Una popolazione Così grande Tant'è vero Che vengono Mandate fuori Dalla città Le cosiddette Bocche inutili Coloro quindi Che non potevano Concorrere Alla difesa Della città Quindi uomini Donne Bambini Che vengono Inviati Buttati Fuori Dalla città E L'ordine Di Cosimo I È quello Di fatto Di massacrarli Perché Che cosa Avrebbero fatto Questi Bocche inutili Sarebbero andati Ovviamente All'accampamento Ispano Imperiale Mediceo Chiamiamolo così E avrebbero chiesto Soccorso a loro In materia di Approvvigionamenti Di logistica Perché non avevano Più una casa Dove stare Qual è l'ordine Che il Che il generale Da Quindi Gian Giacomo De Medici Marchese di Marignano Che viene impiegato Per la guerra Dice Sostanzialmente Di massacrarli Tutti Però Alla fine Questi ordini Non vengono rispettati Ed è interessante Notare Come dalle carte D'archivi A volte Emergano Come ben 200 donne Vengano Accolte Nel campo Degli spani Imperiali Ecco Successivamente Poi Abbiamo la disfatta Di Fiero Strozzi Nella battaglia Di Marciano Detta anche Più comunemente Nota come Battaglia di Scandagallo Per questo Che Siena Poi non riesce A resistere Esatto E di fatto Rimangono 6.000 Abitanti Sì esattamente Rimangono 6.000 Abitanti Quella è Diciamo L'unica Azione Armata Di grande portata La battaglia Di Scandagallo In un contesto Come ripeto Ancora una volta La guerra Era più Una scaramuccia La battaglia Di Scandagallo Insieme Alla battaglia Che si svolse A Chiusi Di cui Che menzionavo Precidentemente Che si era Svolta Nel 54 E queste Sono le due Grandi azioni Armate La prima Quella di Chiusi Che vede però Una disfatta Dell'esercito Ispano Imperiale Mediceo E quella di Scandagallo Che vede una disfatta Dell'esercito Franco-Sienese I Franco-Sienesi Dopo la resa Di Siena Del 21 aprile Del 55 Si ritirano A Montalcino Che ricordiamo L'aveva resistito Al primo assedio Del 53 E loro si Rifugiano lì Fondando La Repubblica di Siena Ritirata in Montalcino Che resisterà A ultranza Fino Non ricordo La data precisa Ma fino Al 1559 Anno in cui Con la firma Della pace Di Cato Cambresì Che pone fine Alle guerre D'Italia E quindi Alla guerra di Siena Che di fatto Potremmo definire Come l'ultimo Grande conflitto Della penisola italiana Nel Che conclude Per l'appunto Le guerre d'Italia Cato Cambresì Che tra l'altro Se non erro Vede anche Un'altra protagonista Secondaria Ma non ha fatto Irrelevante L'Inghilterra Su un piano Ancora più grande Ma questo Ovviamente Non riguarda La Toscana E quindi Di fatto Poi Con L'acquisizione Di Siena Cosimo I Assume il titolo Di Gran Duca Per l'appunto Di Firenze E Siena Duca Duca di Firenze Siena Sì Scusa Duca di Firenze Siena Soltanto Mi sono confuso Nel 1569 Viene proclamata La realtà Del Gran Ducato Di Toscana Che comprende Firenze Siena E poi Con l'incoronazione Del 15 marzo Del 1570 Abbiamo La nomina Di Cosimo Cosimo I Hai fatto un bel salto Hai fatto un bel salto Cercando di riassumere Assolutamente Ora vediamo anche Questa parte successiva Sul piano politico Ma prima ti voglio fare Un'altra domanda Tecnica Perché L'hai citata Ma appunto Te le ridico Qual è Il ruolo In questo grande assedio Delle bande medice Allora Le bande medice Innanzitutto Che cosa sono Le bande medice Sono Organizzazioni Militari Reclutate Sul territorio Di Firenze Di fatto Nascono Nel 1534 E perdurano Fino al 1737 Quando La famiglia De Medici Di fatto Si Si estinse E 1737 1737 1737 Sì Esatto E Queste bande Come vediamo Dagli inventari Vengono reclutate Su tutto il dominio fiorentino Ad esempio Abbiamo La banda di Empoli La banda di Pescia La banda di Pisa Di Pistoia E questo Si riscontra Per l'appunto Dai Cosiddetti Rolli Di Levata Che Nient'altro Erano se non Dei ruoli Per l'appunto In cui venivano Per ogni banda Veniva specificato Il numero Di picchieri Di archibugieri Talvolta anche Di moschettieri In cui Gli uomini Per l'appunto Venivano Arruolati O come si ritrova Scritto Nelle fonti Venivano Descritti Ma come funzionava Per l'appunto La mobilitazione Delle Delle truppe E qui Ho trovato Una fonte Molto interessante Risalente Al 1567 In cui Vengono Elencate Una serie Di Di enti Anche Religiosi Ma anche Centri cittadini Ad esempio Ritroviamo Volterra Ritroviamo Pistoia Ritroviamo L'opera di San Jacopo Di Pistoia L'arte della lana Di Firenze Quindi Tutti enti Che Dovevano Arruolare Un determinato Numero di soldati Che qui nella fonte Viene specificato Con il nome di Celate Con il quale Si indicava L'armatura Quindi anche L'uomo stesso Che l'avrebbe Indossata Quindi il soldato Un numero di soldati Molto basso Si arriva a un massimo Di sei soldati Per il contadio Di Firenze E ogni ente Ogni istituzione Ogni centro cittadino Doveva pagare Una determinata tassa Che variava In media Dagli 84 scudi Ai 168 scudi E con tutto il ricavato Si cercava Almeno di Fornire il materiale bellico Di supplire alle spese Per l'appunto Belliche Ai pagamenti stessi Della truppa Che si rivelano Un grande problema Infatti Non si riesce a capire Almeno in un primo periodo A quanto ammontassero Le paghe Degli uomini Questo almeno Fin quando non viene Standardizzata Standardizzato Il sistema di pagamento Quindi siamo Negli anni Sessanta Del 500 E qui io penso Come mai Ci sono sistemi Di pagamento Così differenti Tra di loro Perché di fatto Se ci pensiamo Come menzionavo Precedentemente Le finanze La logistica Fiorentina Non versava In buone condizioni Le casse dello Stato Non versavano In buone condizioni Quindi era meglio Forse Spezzettare Separare Ciascun Corpo armato Che poi analizzeremo Delle singole bande Pagarle Ogni compagnia All'interno Di una stessa banda Veniva pagata Separatamente In maniera diversa Invece Uniformandole Se ci fosse stata Un'incrinatura Da qualche parte L'intero sistema Poi sarebbe potuto Ecco Avrebbe potuto Collassare Mentre Ogni capitano Che divideva Che divideva Le paghe Le amministrava Separatamente Per la sua compagnia Rendeva di fatto Efficiente Questo esercito Almeno questo È quello che ho potuto È quello che ho potuto Dedurre Ecco E la diversità Del costo Di questo tributo Di fedeltà Di fatto Reso pratico Da un pagamento Versato poi Nella creazione Di bande militari Armate Per arrivare A contingenti Appunto Separati Questa sorta di Dividetimpera Logistico Organizzativo Se sei d'accordo Ti chiedo Aveva oltre A una questione Di controllo Anche una funzione Proporzionale Al valore strategico Della banda Cioè c'erano bande Più importanti Di altre C'erano territori Più importanti Di altre Per la fedeltà Anche militare Allora su quello Ti dico di no Perché dipende Dipende dall'anno Dipende dal Dal contesto Perché durante la guerra di Siena Ovviamente c'è un Reclutamento Su vastissima scala Che Interessa Tutta la Toscana Successivamente Abbiamo Reclutamenti Che però Si hanno anche su Territori di più Piccola portata Territoriale Ed è interessante Notare Come Il sistema di pagamento Che poi viene Standardizzato Il ruolo Che queste stesse bande Ricoprivano Quindi Non solo venivano Utilizzate In azioni di guerra Non era Un esercito Votato Esclusivamente Alla guerra Che bene Si facciamo un conflitto Però poi sciogliamo L'esercito No Venivano Mantenute Con compiti Di presidio Sul territorio Quindi Nelle fortezze Si ritrovano Contingenti Di bande medice Poste a difesa Del territorio E sono questi I caratteri Quindi L'uniformità Di pagamento E tutto il resto Che ho detto Che rendono Permanenti Per appunto I corpi Delle Delle bande medice E Accanto Accanto alle bande medice Abbiamo ovviamente I mercenari Mercenari che Comunque Nonostante si cerchi Di costruire Un Un Primo esercito Permanente Almeno quello È ciò che ho cercato Di far Venire fuori All'interno Della tesi Di fatto I mercenari Continuano A essere utilizzati Questo Fin dall'antichità Ma Le ritroviamo Anche Anche adesso Di fatto Abbiamo eserciti Permanenti Con Vastissime Unità Di soldati Mercenari Di fatto Nella guerra di Siena Dalle carte d'archivio Non emerge Propriamente Purtroppo Il loro ruolo Il loro ruolo Militare Perché Anche i numeri A cui ammontano Non sono Elevatissimi Una banda Di solito Si attesta Che Ricordiamo La divisa In più compagnie Si attesta Tra i 200 E i 300 Uomini E Quindi Di fatto Serve Un apporto Esterno Servono Per l'appunto Compagnie Di mercenari Che integrino E che di fatto Rendano più Più grande Più grande L'esercito Ecco Questa È anche La fase Su cui hai dedicato La tua prima Tesi triennale Dei condottieri Quindi In questo senso Cosimo aveva ragione Di temere Un eventuale Condottiero E in ragione Del quale Faccio Controdeduzioni Non per vederci Nulla di che Dietro Ma per capire Meglio La funzionalità Di questa Divisione In compartimenti Divisioni In contingenti Appunto 300 uomini Poi Arriveremo Più tardi Nella fase Apicale Del primato Politico Di Cosimo Come Di fatto Sovrano Lo possiamo dire In senso tecnico Non re Non monarca Ma di fatto Il massimo Che poteva Raggiungere Lo vedremo dopo Con un effettivo Correggimi pure Che Sulla Ampiezza Di quello che sarà Poi il Gran Ducato Contava 30.000 uomini Quindi Cosimo aveva ragione Di temere Un eventuale Generale Ambizioso Un eventuale Capitano di Ventura Oppure Questa faccenda Era stata risolta Perché Suo padre Era stato Protagonista Di questa fase Problematica E di Cambi di alleanze Ricordiamolo Prima Proprio Su questo Ho ritrovato In archivi Una carta Veramente molto interessante In cui Di fatto L'esercito Di L'esercito Di Cosimo Sta assediando Siena Nel 1554 Pone l'assedio A Siena Emergono Ovviamente Tutte Le difficoltà Logistiche Come ci si aspetta Di fatto Accada In un assedio E Gian Giacomo De Medici Che non ha alcuna affinità Con la famiglia Medici Lui era Marchese Di Marignano Che è una località Poco distante da Milano Venne chiamato Come Condottiero Per Come condottiere Per portare avanti La guerra Venne assoldato E di fatto In questa lettera Che il Marchese Di Marignano Indirizza Cosimo I Lui gli dice Cioè Sostanzialmente Si sfoga Si arrabbia E gli dice Se trovate qualcuno Migliore di me Sarò contento Di Andarmene via Io Cioè Verso In condizioni Penose Sostanzialmente Quindi Di fatto Non c'era questo rischio Di fatto Non c'era questo rischio Però ovviamente Emergono Contrasti Interni Piero Strozzi Piero Strozzi No ma intendo anche Interni Interni Emergono contrasti Interni Abbiamo visto Tra il Marignano E Cosimo De Medici Emergono contrasti Interni anche Tra i vari reparti Mercenari Nell'esercito Di Cosimo De Medici Tanto è vero Questo è molto interessante Che gli accampamenti Devono essere suddivisi Per nazionalità Altrimenti Si scannano Tra di loro Le bande Medice Da una lettera Di Cosimo Di Cosimo Rimangono Quelle Più fedeli Nessuno Almeno A detta di Cosimo Primo Poi non si sa Se è per Esaltare Forse Questo Corpo Armato Dice che Nessuno Gli si rivolta Contro Nessuno Gli si ribella Però mi sembra Ecco Un po' strano Perché Di fatto Le condizioni Logistiche Versavano in condizioni Pietose Le paghe Non arrivavano mai In tempo Pativano la fame Sotto le mura di Siena Così come quelli Dentro Siena A maggior ragione E Di fatto Nonostante ciò Poi Siena Ovviamente Si arrende per fame Certo Ne consegue Se vuoi aggiungere Qualcosa sul ruolo Delle bande Nella guerra di Siena A te Altrimenti Io passerei a una fase successiva Come vuoi No Sì A proposito Delle bande È interessante Notare Come Accennavo precedentemente Come erano Composte Al loro interno Non è un corpo Unico Come potremmo pensare Tutti armati Di Di picca E di spada No C'erano Vari reparti Specifici Abbiamo Il corpo Degli uomini D'arme Che era la cavalleria Pesante Il corpo Dei cavalleggeri La cavalleria Leggera Di fatto E poi Abbiamo Gli armati Che erano Quelli Che Di solito Combattevano Con Con le armi Bianche Che venivano Impiegati In piccole azioni Di scaramuccia A supporto Dei Dei picchieri Che erano Quelli Armati Di questa lunga lancia La picca E E di fatto Tutti questi reparti Godono Di una serie Di privilegi E questo è molto interessante Privilegi Di natura fiscale Quindi Molto spesso Erano esentati Dalle tasse Dalle multe C'erano Privilegi Giudiziari Quindi Potevano essere Soltanto Posti sotto processo Dal Dal tribunale Della loro patria Come veniva chiamato Quindi del luogo Da cui questi Descritti Da cui questi soldati Originavano Privilegi Anche Per quanto riguardava Le armi Potevano liberamente Portare Le armi In città E nel E nel dominio Eccetto Per alcune armi Da fuoco Ci sono proprio Queste Annotazioni Specifiche In merito E il problema Però qual è Che Concedendo Tutta questa serie Di privilegi Che ovviamente Ora ho riassunto Ma che ho ampiamente Analizzato All'interno Della tesi Il problema Qual è Che Dando così Tanto Tanta libertà Alle truppe In materia Economica Fiscale Giudiziaria E del porto d'armi Si creano Dei disordini Di fatto È molto interessante C'è un articolo Di Franco Angiolini Le bande Mi dice Tra ordine E disordine In cui spiega Per l'appunto Come veniva Cioè Come veniva mantenuto L'ordine E come mai Queste C'erano queste Ribellioni interne Alle bande Questo perché Le I privilegi Attiravano molte persone Attiravano però persone Quali contadini Quali gente Che veniva Definita Questo lo ritroviamo Nelle fonti Come gente rozza Che era sempre Prona A tirare fuori Il coltello E a iniziare Una rissa E di fatto Quindi Si cerca Di regolamentare L'organizzazione All'interno Delle bande Di fatto È molto interessante Leggere Le varie regolamentazioni Risalenti al 53 Che un capitano Scrive Per la sua banda Ad esempio Non possono I soldati Non possono Bestemmiare Sotto pena Ad esempio Di due tratti Di corda I soldati Devono stare Al loro Posto di guardia Pena Una multa Ecco Faccio Faccio per dire Insomma Tutte norme Volte A mantenere A creare un canone Di fatto A regolarizzare E anche questo È diciamo Uno dei tanti aspetti Che ho individuato Che rendono Di fatto L'esercito Le bande Mi dice Un esercito Come dire Professionale Un esercito Professionale Che Che opera Sul territorio Non solo In tempo di guerra Ma anche In tempo di pace Presidio alle fortezze Dove comunque L'ordine Va mantenuto Assolutamente E io infatti Volevo citare A proposito Del presidio Un interessante esempio Citando Leggendo direttamente Una paginetta Dal classico Di Young Perché Mi ha colpito Particolarmente Come esempio Di queste opere Abbiamo la notevole Fortezza di San Martino Sulle colline Sopra San Piero a Sieve Costruita Dietro ordine di Cosimo Per difendere Firenze Dal lato nord E che due secoli dopo Quando fu smantellata E le fu tolta La guarnigione Non fu abbattuta Per ordine Del gran duca austriaco Pietro Leopoldo 1765 1790 Ma fu conservata Come monumento Dell'architettura militare Del XVI secolo La fortezza Ha un miglio Di circonferenza E la robustezza Della sua costruzione È veramente straordinaria Sorge sullo sprone Del colle Ai piedi del quale Scorrono Da tre lati Le acque Della sieve E con la sua altezza Maestosa Domina tutto Il piano del Mugello Nel centro Del forte C'è un capace Serbatoio Per la raccolta Dell'acqua Necessaria Alla guarnigione Inoltre Se anche questa L'acqua Fosse venuta A mancare Una scala profonda Scavata nel cuore Della montagna Permetteva ai soldati Di andare ad abbeverare I cavalli Nella sieve Senza essere visti Dal nemico Nel centro Della montagna Erano state scavate Delle scale sotterranee Per tenervi i magazzini Le armerie Le fonderie Per prepararvi Ogni specie Di equipaggiamento militare E le dispense Per le provviste Tanto che la fortezza Era ritenuta capace Di resistere Ai più formidabili nemici Sì infatti Vediamo Ancora una volta Come Logistica Organizzazione interna Vada a braccetto Con Con la composizione Di un esercito Ecco un altro Aspetto Molto interessante Che permette Ancora una volta Di comprendere Come questo esercito Diventi professionale E che In un certo qual senso Per riallacciarci Poi al discorso politico Di Cosimo Certo ora ci arriviamo E per l'appunto Che Tramite Che Questi corpi armati Queste Bande medisce Vengono utilizzate Anche In conflitti Esteri Dimostrando ancora una volta La loro professionalità Sul campo di battaglia Ma Questo impiego Nei conflitti esteri Determina Ancora una volta Cioè Legittima Ancora una volta Il potere Granducale Legittima Numerosi membri Della famiglia Ricordiamo Che le bande medisce Vengono impiegate Tra il 1592 E il 1609 Se non ricordo male Le date Ma vengono impiegate Anche precedentemente Negli anni 60 Del 500 In Ungheria A combattere Contro i turchi Assolutamente Come ricorda poi Come analizza Molto bene La professoressa Sodini Nel libro L'Ercole Tirreno Guerra e dinastia Medisce Nella prima metà Del 600 Sì che ho avuto Anch'io Fra l'altro In triennale E le bande medisce Vengono impiegate Durante la guerra Dei trent'anni Ricordiamo I 500 Uomini d'armi Se non ricordo male I 500 uomini d'armi Impiegati Al servizio Dell'imperatore Nella battaglia Della montagna bianca Del 1618 Il primo scontro armato Della guerra Dei trent'anni Ma lì siamo In un altro contesto In una fase successiva Comunque io passerei Alla fase Appunto Politica E in questo senso Il credito Che deriva Dalla vittoria Su Siena Acquisisce però Una forma Che pur Contestualizzata In quella che In maniera Oserei dire Un po' romantica Uno studioso Importante Intellettuale Come Trollop Definì In sostanza La vittoria Di un tiranno In realtà Il Cantagalli Ci aiuta A contestualizzare Come la vittoria La quale segue Una Equanimità Dei rapporti Di fatto Di fatto Siena Al di là Della questione Di Montalcino Con la Repubblica Appunto Lì rifugiatasi Mantiene Il suo Effettivo Governo Al di là Di un rappresentante Di Cosimo Lì mandato E soprattutto Non la sovrapposizione Del Ducato Di Firenze Cosimo diventa Duca di Firenze E Duca di Siena Questo Questa capacità Di mantenere Un'amalgama Oserei dire Con un termine A meccaro Per averlo studiato In una fase successiva Quella contrastiva Tra i rapporti Delle cosiddette Due France Ma ovviamente Siamo molto più in là Lo riporto Al nostro Rinascimento In crisi Come lo definirei io Anche perché Cantagalli ne parla In questi termini Riesce A mantenere La pace Cioè Siena Dopo la vittoria E soprattutto Dopo vari tentativi In cui Cosimo Inizialmente aveva cercato Di fare da mediatore Per acquisire Un potere politico Che viene sancito Dalla vittoria Alla quale è costretto Sostanzialmente A dare una forma Poi Non si vedono Guerre successive Cioè lui è in grado Di mantenere Forma repubblicana Forma di governo All'interno ovviamente Del suo potere Effettivo e centrale Ma su un piano formale Alla pari E sostanzialmente Mantenendo anche Intatti i costumi Che proprio Grazie alla politica Di Cosimo Potranno conservare Un colore Tipicamente senese E questo proprio È frutto Della sua capacità Diplomatica Che abbiamo visto Già emergere In quel colloquio Che dicevo A inizio A inizio Tra Cosimo Alessandro L'imperatore Carlo V E Francesco I Nell'incontro A Bologna È tutto frutto Della sua capacità Diplomatica Le trattative Di pace Con Siena Iniziano Nel 55 E Proseguono Nel 56 E nel 57 Dov Anno in cui Per l'appunto Siena Viene inglobata Nell'ancora Ducato Di Firenze Poi Poi Gran Ducato Vengono ratificate Una serie di Una serie di Carte Che per l'appunto Come dire Definiscono Dei punti Che Siena Deve Che Siena Deve obbedire Non verranno Smantellate Le fortezze Il governo Sostanzialmente Per metterla In parole semplici Rimarrà Il solito Di fatto Il governo Della città Rimane quello Nonostante Comunque Cosimo proponga Di mantenere Un presidio Un presidio Armato a controllo Della città Dopo tutto quello Che era successo Di 1500 uomini Oltre alla guarnigione Spagnola Sì Esattamente E Sì Quindi Tutto questo È frutto Della sua Abilità Di Abilità Di inserirsi In uno schema Nel quale Lui è vassallo Dell'imperatore Carlo V Continuerà questa politica Anche dopo l'abdicazione Di Carlo V Che sostanzialmente Vivrà i suoi ultimi anni In monastero Si può dire Sostanzialmente Ma In cambio Di riconoscimenti Politici In cambio Di un credito Inizialmente Lui deriva Dall'imperatore Carlo V Un diploma Un diploma Che gli permette Di assurgere Via via Nel tempo Sostanzialmente Ripeto Il sovrano In senso tecnico Del primo stato italiano Eppure Prima Facendo il nostro salto Iperbolico Temporale A cui siamo ormai Abituati 1569 Lui Il coronamento Della carriera Dei medici Che avevano visto Anche Clemente VII Prima ancora Leone X Giovanni Figlio Di Lorenzo De Medici Lorenzo il Magnifico Non arriva Con una corona Ma soprattutto Non arriva Dall'imperatore Arriva dal Papa Esatto Da Papa Pio V Succeduto a Pio IV Un Papa Ricordiamolo Molto Controriformista C'era stato Il Concilio di Trento Esatto Che il 15 marzo 1570 Di fatto Incorona A Roma A Roma A Roma Cosimo I Ci sono queste Bellissime Incisioni Di Cosimo I Che si reca Dal Papa Con la sua guardia personale I Lanzi tedeschi Guarda Svizzera E di fatto lui viene Incoronato E da quel momento Azzardo a dire Che i medici Si atteggiano Un po' Come i Sovrani Insomma Di uno Stato Territoriale Perché Erano Si riconosciuta Cioè la Toscana Era si riconosciuta Ma era sempre un po' Lasciata in disparte Era sempre una terra Di passaggio Degli eserciti Non Con questo non voglio dire Che i medici Non contassero Assolutamente niente No però c'era stata Una decadenza Dal 94 in poi Una decadenza politica Come abbiamo visto Durante la guerra di Sena Poi economica Finanziaria Militare Militare In un certo senso In un certo senso E poi con la costruzione Della realtà Del Gran Ducato Nel 1569 L'incoronazione Poi del 70 Di fatto Il Gran Ducato Si emerge Sulla scena politica Ma È interessante vedere Comunque Come La realtà del Gran Ducato A differenza Di quel che affermi Giorgio Espini In un'altra interessante Monografia Diciamo così Su Cosimo I Ma lui si concentra più Sull'ascesa Si chiama L'indipendenza Del Principato Medicio Ecco io Non concordo molto Con questo utilizzo Del termine Indipendenza Del Principato Sì perché Lui si riferisce Per quanto riguarda L'indipendenza Che acquistano Le fortezze Di Pisa Firenze E Livorno Dopo vediamo anche questo Che vengono restituite Che vengono restituite Di fatto A Cosimo I Ma questo già nel 43 Quindi lui parla Di indipendenza In questo senso Però in un senso Più ampio Indipendenza Direi anche di no Perché Con la stipula Della pace Di Cato Cambresì Del 59 Viene a formarsi Un'altra realtà Territoriale All'interno Della Toscana Lo Stato dei Presidi Quindi tutta la penisola Dell'Argentario Monte Argentario Orbetello Porto Santo Stefano Sì anche Porto Santo Stefano L'isola d'Elba Eccetto Porto Ferraio Sono di fatto Sotto il controllo Della Spagna Ricordiamo come ci siano Ancora presidi Spano imperiali Sul territorio fiorentino Quindi indipendenza Sì Fino a un certo Sen Fino a un certo Momento Perché Di fatto C'è La realtà Del Gran Ducato C'è Il Gran Duca Una figura Che si impone Sullo scenario politico Ma di fatto Chi controlla Assolutamente Anche perché Chi era succeduto A Carlo V Filippo II Il quale Figuriamoci E lo dice benissimo Anche il nostro Young Va bene Lo possiamo anche accettare Se avrebbe accettato Una rivendicazione Proprio in un periodo In cui si cercava Di dare La conformazione Di una pace duratura Con Chateau Cambresi Di un nuovo Pretendente A una sovranità A un potere Più alto Di quanto Gli fosse dovuto Nel cuore Dell'Italia Che era Praticamente All'interno Tra l'incudine E il martello Del nord Del sud Ormai spagnoli Gli spagnoli Sono i veri vincitori Di questa fase Poi Nel 600 Ovviamente Ci sarà L'eredità Contestata Nell'arco Di quella citata Da te Guerra dei trent'anni Che però Non a caso Memorie liceali Manzoni È un'Italia Del 600 Spagnola Largamente Quindi In questo senso Ci sono appunto Lo stato di presidi Molto Molto interessante Ma anche la creazione Di Cosimo Innanzitutto Di un tentativo Direi di destreggiarsi Non in maniera Completamente indipendente Ma nell'ambito Nell'alvio Di una politica Matrimoniale Dinastica Comunque ereditata Perché di fatto Lui porta il nome Di Cosimo Paterpatrie E diventa Un nuovo Paterpatrie Lui Però di una dinastia Che cercava Una continuità Tanto che Sull'ultimo piano Nell'ultimo piano Di Palazzo Vecchio Sopra un camino C'è scritto Cosimo Florenti E Dux Secundus Cioè Secondo Duca Si riallacciava Ad Alessandro Perché la continuità Nel tempo È il vero crisma Del potere Nel tempo Per ripetermi Perché è proprio Forte questa importanza Secondo e ultimo Duca Perché poi dopo di lui Saranno tutti Granduchi Esatto Assolutamente Fino a Gian Gastone Ecco di fatto L'ultimo Granduca Della famiglia Sì sì Ma ereditato poi Anche dagli Asburgo Lorena Sì esatto Ma volevo arrivare Anche col tuo aiuto A un'altra fase militare Un'altra fase importante Che è quella Della creazione Dell'Ordine Di Santo Stefano So che ti piace E quindi volevo Anche in questo senso Darti un aggancio Perché Cosimo Non solo Si occupa di truppe Di terra Ma si occupa anche Di creare Un principio Di una flotta Importante Sì una Diciamo una Flotta Non grandissima Ora Sull'Ordine Di Santo Stefano Non mi sono molto Concentrato Non l'ho analizzato Ovviamente All'interno della tesi Che verte Per lo più Sulla guerra di Sena Sulle verde Mi dice Comunque Ricordiamo Le dodici galè Che vengono Fornite Da Cosimo I De Medici Alla Papa Pio V In quella Lega Che poi Andrà a combattere Ad affrontare I turchi Nella battaglia Di Lepanto Del 7 ottobre 1571 Ed è molto interessante Cioè Piccolo aneddoto Sono proprio Le galè toscane Se non sbaglio Sì le polene La grifona E dell'altra Mi sfugge il nome Ah d'accordo Che sono quelle Che assaltano La sultana Di Alipascia E La loro sede Era a Pisa Che per l'appunto Era il Porto principale Del Del Granducato Di Toscana C'era anche Livorno Ma Pisa Di fatto Con la creazione Dell'Ordine Di Santo Stefano Diventa il porto Principale E nella chiesa Dei cavalieri Dell'Ordine Di Santo Stefano Che si trova Tuttora Nella piazza Dei cavalieri Di Pisa Ritroviamo I vessilli Sottratti Alle varie Galè Turche Addirittura C'è il Bellissimo vessillo Della Sultana Di Alipascia Che è un Vessillo Immenso Sostanzialmente Che viene Portato In trionfo Dall'Ordine Di Santo Stefano A seguito Della battaglia Depositato Presso la loro Sede A Pisa Gli standardi E le polene Anche Delle navi Catturate A trionfo Quasi a evocare Antichi rostri Della preda Della vittoria Quindi sì Lui si concentra Molto Cosimo I Sulla creazione Sì Di un esercito Terrestre Che diventa Permanente Quello che è individuato Ad essere diciamo Uno dei primi Eserciti Permanenti Poi ci sarebbe Un discorso Più ampio Da fare Confrontandoli Confrontando le bande Con gli altri stati Territoriali E con Le precedenti Ordinanze Del Machiavelli Su cui le bande Mi dice Si parlano Però Ecco Lui Di fatto Non si concentra Solo sugli eserciti Terrestri Ma anche In un certo senso Anche su quelli Marittimi Piccoli Anche Siena Aveva cercato Di mettere In piedi Una piccola Flotta marittima Ma Sono tipo Qualcosa come Quattro galè La La flotta Che fornisce Approvvigionamenti A Siena È quella È quella Francese E Loro Riescono a mantenere Il Porto Di Porto Ercole Scusa il gioco Di parole Riescono a mantenere Porto Ercole Fino alla Fino alla sua caduta Nel 55 Perché Ricordiamo Torniamo un attimo indietro Piero Strozzi Cioè Siena si arrende Piero Strozzi Era Montalcino Montalcino Subisce l'assedio Nel mentre Piero Strozzi Si rifugia A Porto Ercole Porto Ercole Viene assediata Viene conquistata Dai Medicei E E poi Che fine fa Piero Strozzi Me lo sono chiesto E tipo È come Una persona che scompare Dalla scena politica In Italia Di fatto lui Insieme a Blaise Sengono richiamati In Francia Dal re E Di fatto Piero Strozzi Poi muore Colpito Da un archibugiato Durante la sede Di Thionville Del 58 Ecco Così Scompare Definitivamente Dalla scena Questo è interessante Perché Cosimo Una volta che è morto Non ha più ragione Di temerlo E farà Non è È raro Da parte sua Una sorta Di elogio Sì Di un nemico Ma di un nemico A viso aperto La fine Di una personalità Comunque rispettabile Importante Nello scacchiere italico E che Di fatto Viene consegnata Alla storia Ovviamente Postumo In maniera Sì Possiamo dire Politicamente Strumentale Elegante In senso strumentale Anche perché Ormai da morto Non fa più paura Sorgeranno In questo senso Numerose favole Numerose Le chiamo così Perché di fatto Sono storielle Di male lingue A distanza Di 50 anni Che metteranno Insieme L'assassinio Di Lorenzino Che di fatto È avvenuto E La tempra Repressiva Di Cosimo Insieme A Un'altra parte Che è quella conclusiva Su cui vorrei Mirare Perché giustamente Non si è capito Che a te piace La storia militare E nemmeno quella Politica istituzionale Ma Ricorda Quella parte matrimoniale A cui ora arriviamo Che lo additava Di aver ucciso Moglie Figli Lui ne ha avuti otto Ricordiamolo Nonostante non fosse Mai avvenuto Sono tutte Notizie false Questo è un dato Documentabile Grazie all'archivio Di stato Che oggi permette Di dare voce A chi tra gli storici Contemporanei Dubitava Ripeto Non si sa niente Di queste storie Per 50 anni All'improvviso Per screditare Non Cosimo Ormai morto Ma la sua famiglia La parte medice Ereditaria Del Gran Ducato Le male lingue Iniziano a tirar fuori Queste storie Questo perché lo dico Perché nel 1562 Cosimo affronta Un anno tragico Della sua esperienza Di vita Che ha visti morire Quasi tutti i suoi figli E in quell'occasione In un viaggio Nella costa toscana Perderà Purtroppo La moglie Che già aveva Quella che Young chiama Un'emorragia polmonare Non so se si riferisca A un enfisema O ad altro Ma di fatto I medici avevano sconsigliato A Cosimo Di portare con sé I suoi figli Proprio perché La zona Che non era Di certo bonificata Ma era una zona palustre Una zona In cui imperversava la malaria Non era affatto Consigliabile Per un viaggio Una gita di piacere Che inizia come tale E finisce Per essere Un funerale Un funerale Di due figli E il funerale Quindi che sono Giovanni e Garzia A richiamare anche L'origine spagnola Della madre Napoletana Ma in questo senso Si capisce bene Si contestualizza bene E la madre stessa La madre stessa La madre stessa Appunto Di Garzia Giovanni Che è sua moglie L'onore di Toledo Amatissima Che va citata giustamente Anche in un video Dedicato prevalentemente Alla politica Perché Che oltre ad avere Un matrimonio Sì breve Però felice Nella sua durata Era stata fondamentale Per i primi anni E anche per i primi mesi Grazie Ai consigli Che forniva A Cosimo E anche al suo denaro Cosimo riesce A separare I conti Quelli Dei suoi investimenti privati Che gli garantiranno Poi sostanzialmente Di fare una politica Commerciale di profitto Grazie per esempio Anche alla creazione Interessantissima Questo lo si vede Su più ampia scala Anche da un punto di vista Estetico di propaganda Della fabbrica Degli arazzi fiorentini Che supererà Perfino quelli Fiamminghi Sostanzialmente In sostituzione Ad antiche tradizioni Che avevano visto Decadere Certi costumi fiorentini Ma soprattutto Grazie al suo denaro Le prime operazioni Di organizzazione Politico territoriale Si devono Alla dote Di Eleonora di Toledo Grazie alla quale Cosimo riesce A consolidare il potere Proprio quando Gli verrebbe strappato In maniera più facile Tanto da far dire A Young Che senza quel denaro E senza quel primo appoggio Di Eleonora di Toledo Cosimo avrebbe potuto Durare pochissimo Qualche mese Ricordiamo anche Che Eleonora di Toledo Cioè A lei Vengono dati Poteri Anche in ambito diplomatico Quando Il Gran Duca Quando Cosimo I Quando Sì Il Gran Duca Sì ormai Di fatto Quando Lui Non è a Palazzo Lui Le lascia La libertà Anche di gestire Ambiti politici E quale Palazzo Quale Palazzo Soprattutto Perché Loro iniziano A Palazzo Vecchio Dopo Via Larga Ricordiamo Tradizionale Palazzo Medici Riccardi Oggi sì Palazzo Medici Riccardi Palazzo Vecchio E poi Palazzo Pitti Ed è per questo Che Palazzo Vecchio Si chiama Palazzo Vecchio Esatto Perché Quando si trasferiscono A Palazzo Pitti Il Palazzo della Signoria O Palazzo dei Priori Come era noto Fino a quel tempo Diventa il Palazzo Vecchio La vecchia residenza Dei Medici Che lui lascia Francesco Suo erede Prima di Ferdinando E sostanzialmente Creando però Una Quella che ormai Conosciamo bene Ma è interessante Sempre evocarlo Perché è bellissimo Anche esteticamente Il famoso corridoio Tra appunto Palazzo Vecchio Quel punto La Galleria degli Uffizi E Palazzo Pitti Che di fatto Viene ampliato All'epoca Perché Pitti Perché era stato cominciato In una breve ala Da Luca Pitti Molti anni prima Se non erano Ottanta anni prima E E Eredita Acquisisce anche Tutta la parte Della collina Di Boboli Ed è questo collegamento Appunto Questo transetto Questo corridoio Che passando Ovviamente Dal famosissimo Celeberrimo In tutto il mondo Ponte Vecchio Che era Il ponte dei Macellari E che Cosimo Come ancora Rende il ponte Degli orafi fiorentini È quel corredo Che permette Non solo Una funzionalità familiare Ma anche Un principio Di tentativo di fuga Nel caso Ne avesse avuto bisogno Soprattutto Questa necessità Del presidio strutturale Politico Territoriale Militare Forte Si vede anche Perché sopra La collina di Boboli C'è il forte Belvedere Che crea lui E mantiene sicura Tutto il lato sud Di Firenze Esattamente E su questo appunto Se vogliamo aggiungere qualcosa A te A te onori Di conclusione Ma mi sembrava Essenziale Sottolineare come Nonostante la tragedia Faccia parte Della vita Di un uomo Che perde Quasi tutti i suoi figli Che cerca Di imparentarsi Con Alfonso d'Este Che cerca Di imparentarsi E poi ci riesce Con Ferdinando I Imperatore Grazie al matrimonio Sostanzialmente Tra suo figlio E Giovanna D'Austria In una politica Di espansione Della propria Proiezione politica Ed è per questo Che se noi andiamo Nel loggiato Di Palazzo Vecchio Non vediamo Raffigurazioni Di Firenze Delle colline Come potrebbero essere Fiesole Ma che cosa vediamo Cosimo? Vediamo Vienna Vediamo Graz Città austriache Per l'appunto Per far In qualche modo Rendere la casa A Giovanna D'Austria Esattamente Cosimo grazie mille Perché hai fatto Un approfondimento Straordinario Spero di non essere stato Troppo dispersivo E adesso Se rimane ancora tempo Passiamo per le domande Ovviamente per i soci Di Virtu Nascente E per tutti gli altri Ci vediamo presto Al nostro prossimo video Quindi mi raccomando Non è un insulto Palle 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 Evviva il serenissimo Granduca Assolutamente A presto